sapete le costellazioni non hanno niente di fisico sono semplicemente il modo che gli uomini hanno trovato per dare ordine a qualcosa in questo caso l'aspetto del cielo le stelle che si vedevano gli oggetti che si vedevano nel cielo per dare ordine a cielo che tutto sommato era abbastanza caotico ogni cultura ogni popolazione nei millenni nei secoli ha prodotto le proprie costellazioni proprie raffigurazioni ha unito e puntini vi ricordate no il gioco della settimana i misti con i sci puntini è confondere costellazione è sempre stato questo e in tempi successivi alla nascita delle maggiori costellazioni poi è nata anche una mitologia che però è sempre stata posteriore no uno pensa che normalmente la mitologia delle costellazioni sia nata contestualmente con le costellazioni stesse invece non è così molto molto probabilmente determinati miti sono stati modificati per permettere poi l'aggancio alla assunzione a cielo la collocazione in cielo da parte del re degli dei nel capo essere zeus per esempio come conclusione di un mito ma insomma determinate costellazioni erano antecedenti ai miti così come li conosciamo noi dicevamo di orione orione è una costellazione abbastanza antica è una costellazione molto facile a riconoscere è una costellazione invernale cosa vuol dire invernale vuol dire che domina il cielo tra autunno e parte inizio primavera durante le notti appunto di questo periodo non è solo questo chiaramente è una costellazione preeminente perché ha intanto una forma facilmente riconoscibile come può essere più o meno orsa maggiore e poi perché ha una serie di stelle luminose che chiaramente non la fanno passare inosservata è una costellazione che in qualche modo ricorda il personaggio che dovrebbe rappresentare questo è un problema in genere serio per le coste che per chi osserva per le prime volte il cielo no nel senso che le costellazioni non sempre quasi mai hanno una forma che ricorda l'oggetto o la persona o l'animale o l'essere mitologico che dovrebbe rappresentare io faccio sempre questo esempio quando tanti anni fa in una delle mie prime serate pubbliche insomma presentavo l'orsa maggiore o la maggior la conosciamo tutti e presentavano dicevo tipicamente orsa maggiore una costellazione molto più grande delle sette stelle del grande carro tra parentesi no perché i confini ufficiali sono stati stabiliti per tutte le costellazioni tra 1922 e 1930 e tra parentesi l'orsa maggiore se non vado errato è la terza costellazione per dimensioni però tutti chiaramente conosciamo le sette stelle del dell'orso le sette stelle del grande carro ricordo che una persona che stava lì che seguiva disse ma grande carro grande carro disse dialetto frascadano già a me sembra più uno sgommarello ora lo sgommarello per chi non è visto che siamo online potrebbe non esserci qualcuno di romo sgommarello il mestolo effettivamente per gli anglosassimi le sette stelle principali quelle che noi chiamiamo il grande carro è il big dip o cioè il grande messo rende molto più l'idea di un carro per non parlare poi dell'osso maggiore quindi vedete che l'osso le costellazioni non sempre raffigurano rendono bene l'idea dell'oggetto dell'animale che rappresentano un caso tipico può essere al contrario può essere leone dove si riconosce abbastanza bene una forma animale e nel caso di orione tutto sommato questo grande rettangolo con le tre stelle che formano la città la cintura e le stelle che formano la spada e così via in qualche modo quantomeno indicano quelli che sono i punti principali della figura mitologica allora come dicevo prima orione è una delle carte delle costellazioni più caratteristiche di questo periodo che si nota dal tardi autunno e per tutto l'inverno ora senza dover fare lezioni di astronomia sferica insomma che non è il caso ma se poi se qualcuno è interessato noi parleremo di queste cose nel nostro corso di astronomia pratica che inizierà tra aprile maggio credo però insomma tutte le costellazioni tutte le stelle come il loro moto è dato alla rotazione terrestre sul grano est tramonta ovest e culminano a sud e ovviamente ovviamente insomma diciamo la composizione del moto di rotazione terrestre in modo rivoluzione da intorno al sole della terra modo rivoluzione fa sì che le stelle quindi la costellazione appartengono solgano ogni giorno 4 minuti prima ora può sembrare poco però se ne moltiplichiamo 4 minuti per 30 che sono i numeri giorni in un mese scopriamo che una costellazione da inizio mese a fine mese o se preferite all'inizio mese successiva sorge due ore prima perché 4 per 30 fa 120 devo dire che le costellazioni stelle che sorgono alle 8 di sera il primo gennaio sorgono il primo febbraio febbraio 30 giorni dopo il primo febbraio e sorgono alle 6 di sera due ore prima quindi anticipano di due ore al mese quindi orione diciamo per cominciare a vederlo nella tarda estate dobbiamo praticamente svegliarci quasi all'alba dobbiamo aspettare quasi che il sole sorga per poterlo vedere ma anticipando di due ore ogni mese finisce che in pieno inverno quando il sole tramonta orione già bello alto nel cielo che cosa troviamo all'interno della costellazione beh all'interno della costellazione dovevamo molti oggetti cospicui intanto tutta una serie di stelle brillanti riga lebbe de geus su tutte una serie di nebulose cospicui molto cospicui forse la più cospicua di tutta m42 ma non solo la grande nebulosa di orione e alcune nebulose oscure famosissima la testa di cavallo e alcuni di questi oggetti poi ce lo permettendo li punteremo con il nostro telescopio successivamente il mito allora non esiste un mito ufficiale però su su orione esistono dei miti sapete la mitologia antica non era codificata no esistevano varie versione dello stesso mito alcuni casi erano versioni molto campanellistiche chiaramente insomma in cui si tendeva ad avere una versione di un determinato mito che qualche modo esaltasse la località in cui ci si trovava questo vale tantissimi miti antichi in particolare miti greci quelli di cui abbiamo più conoscenza e però fondamentalmente orione era un cacciatore per gli antichi troviamo la figura di orione è presente in tante tante culture ma insomma se ci soffermiamo per il momento su quella su quella greca quella conosciamo meglio da questo punto di vista insomma orione è un cacciatore un grande cacciatore purtroppo per lui anche un cacciatore abbastanza borrioso quindi nei vari miti insomma finisce sempre abbastanza male quello più conosciuto insomma è quello per cui orione già salvato una volta dal suo dalle sue mance diciamo il suo essere smargiasso fece proprio una brutta fine nel momento in cui si si vantò di poter uccidere qualunque animale della terra e quindi gaia cioè la terra con la t maiuscola si preoccupò molto al riguardo per ovvi motivi e quindi decise di inviare uno scorpione per ucciderlo oppure l'altra versione del mito è che addirittura orione abbia in qualche modo tentato di sedurre e violentare la artemide la dea della caccia che oltre ovviamente non aver gradito la offerta era soprattutto la dea vergine per l'antonomasia ed era purtroppo per orione anche molto vendicativa e soprattutto la grandissima arcela e quindi non si spero neanche di ucciderlo ma invocò anche lei uno scorpione secondo questa versione mito che lo lo punse e lo uccise e questa è la spiegazione come dicevo prima che il mito dà al fatto che orione e scorpione sono due costellazioni distanti nel cielo talmente distanti che quando vediamo orione scorpi lo scorpione è impossibile per le nostre latitudini vederlo e così via perché perché orione una costellazione invernale è una costellazione che si vede di notte d'inverno quindi il sole sta dall'altra parte e infatti in inverno il sole viaggia dalle parti della costellazione attenzione non i sogni segni zodiacali nella costellazione dello scorpione quando noi invece guardiamolo vediamo lo scorpione lo possiamo vedere in estate perché perché il sole dall'altra parte il sole infatti è dalle parti di orione non passa nella costellazione e passa sopra perché passa sopra c'è un passo più al nord passa nella costellazione del toro però chiaramente è una è un periodo estivo e quindi orione impossibile vederlo quindi questo è un esempio un esempio di come gli antichi spiegassero con i miti un fatto astronomico abbastanza evidente cioè il fatto che determinate costellazioni era impossibile vederle insieme nel cielo allora dicevo prima io non so se si vede bene perché le linee sono abbastanza abbastanza sottili e quindi comunque questa è la costellazione di orione vedete qui il grande rettangolo formato dalle sue stelle principali dai due angoli opposti le due stelle più luminose richel di colore tra il bianco e l'azzurro e vedo il geus invece di un bel colore arancione poi abbiamo bellatrix che un'altra stella luminosa e sai queste quattro stelle formano un rettangolo facilmente riconoscibile ma non è la caratteristica più comune e più facilmente riconoscibile dalla costellazione di orione perché di orione si riconosce immediatamente per le tre stelle della cintura queste tre stelle abbastanza molto diciamo luminosissime ma comunque di visibili anche in un cielo inquinato come può essere quello di una grande città come roma queste tre stelle praticamente equidistanti e di la stessa luminosità in un cielo poi più buio possiamo notare le altre stelle della costellazione questa parte qui che rappresenta un po la pelle diciamo o la clava o lo scudo del cacciatore la testa questo terzetto di stelle qui e soprattutto soprattutto la spada questa parte qui è quella che in qualche modo in un cielo buio attira immediatamente la testa l'attenzione subito dopo la cintura perché perché al proprio interno al centro si nota quasi subito una sorta di sfocatura quella sfocatura non è una sfocatura non è che ci vedete poco ma se infatti è quello che noi riusciamo a percepire occhio nudo di una nebulosa la più grande nebulosa forse visibile occhio nudo che è la nebulosa di grande nebulosa di orione che è uno spettacolo unico anche in un piccolo telescopio binocolo immaginiamo in un grande telescopio del geus è la dodicesima stella del cielo per luminosità e di un colore rosso arancio è anche una stella variabile come moltissime stelle nel cielo anche il nostro sole è una stella variabile solo che ha una variabilità molto lunga a un ciclo di undici anni caso per il geus invece la variabilità è più breve ma è comunque irregolare non è una variabile regolare questa stella è luminosa per un motivo molto semplice perché è molto grande molto grande è infatti quello che gli astrofisici chiamano una gigante rossa cioè una stella anziana che sta vivendo diciamo la seconda parte avanzata della sua vita e dove tutto l'idrogeno o quasi tutto l'idrogeno è stato convertito in elio che è il processo di fusione tipica di tutte le stelle e sta cominciando a bruciare l'elio in carbonio questa cosa qui sta facendo espandere la stella in dimensioni enormi immaginate che il radio del geus probabilmente più grande dell'orbita di marte quindi immaginate quanto grande questa stella però chiaramente anche relativamente fredda il sole a una temperatura superficiale di circa 6000 gradi kelvin mentre l'atmosfera cosiddetta di la superficie di betelgeus non esiste una superficie fisica o solida no è più una sorta di gas che mano a mano diventa sempre più denso ma insomma quella che più o meno la superficie del gli strati esterni della della stella di betelgeus sono solo 3000 gradi kelli due anni fa circa betelgeus è insomma data sulle pagine tutti i giornali anche quelli che non si occupano di scienza perché si è scoperto poi la notizia è stata un po ridimensionale insomma che stava perdendo progressivamente luminosità ora ci possono essere tanti motivi per cui una stella perde luminosità intanto per la variabilità ovviamente la variabilità di betelgeus è ben conosciuta pure essendo una variabilità irregolare in questo caso era una luminosità media più bassa del solido stava continuando ad esce sono state fatte tantissime ipotesi probabilmente è un discorso legato alla fisica e della stella e a quello che sta passando la stella stessa non dimentichiamoci che le stelle sono oggetti in perenne equilibrio come si dice in equilibrio idostatico ossia da una parte le reazioni di fusione tenderebbero a far espandere la stella per la pressione di radiazione i fotoni che cercano di uscire tutte l'energia tenderebbe a far espandere la stella dall'altra parte la gravità invece lo sappiamo tende a farla comprimere quindi la stella ha una dimensione che è data proprio dall'equilibrio tra quanta energia produce e quant'è la massa che ha se una delle due cose diciamo diminuisce ovviamente prende il sopravvento l'altra nel caso quando diciamo quando una stella ha finito la propria prima fase quindi ha bruciato quasi tutto l'idrogeno a quel punto le reazioni diminuiscono e quindi vince la gravità la stella tende a comprimersi ma comprimendosi si riscalda si riscalda un certo punto che raggiunge la temperatura critica per cui inizia la posizione dell'elio l'elio l'elio è molto più energetica e quindi la stella quel punto si espande e diventa una gigante rossa ecco immaginare che una stella quindi a diversi periodi nella propria vita e quindi spesso volentieri i momenti di passaggio tra una fase e l'altra sono momenti critici e di instabilità così su dire per la stella quindi la la diminuzione della luminosità che poi non è stata confermata anzi sembra che si sia fermata insomma è probabilmente un effetto di questa instabilità tra virgolette momentanea della stella giungo lì noi l'abbiamo osservata adesso ma chiaramente la stella è distante variate decine di anni luce da noi e quindi quello che è successo è successo tempo dietro quello che noi vediamo è l'informazione che ci arriva in questo momento dal fatto che la luce per quanto sia la cosa più veloce che esista è una a una velocità finita quindi sono oggette distante dieci anni luce vuol dire che se una cosa succede ammesso che abbia senso dire una cosa già adesso l'informazione ci arriverà fra dieci anni questo è quanto la stella più luminosa del cielo ma che per motivi più o meno impescrutabile probabilmente per distrazione a è seconda diciamo nell'elenco delle stelle della costellazione rigel perché dico seconda perché dal 1600 dall'astronomo bayern e le stelle vengono identificate con le lettere dell'alfabeto greco però può sembrare una cosa semplice ma pensate che fino allora le stelle venivano identificate nei modi più assurdi in particolare venivano identificate con la posizione all'interno della figura che rappresentava la costellazione ora questo comportava che quindi una stella si chiamasse che ne so la stella posizionata nell'ascella destra del grande cacciatore quindi questo voleva dire che voi dovete avere ben presente qual era l'immagine ha messo che ne esistesse una standard della costellazione e in base a quello identificare la stella nel 1600 circa astronomo bayern cartografo bayern alla fine scelse un metodo molto più semplice identificò tutte le stelle di una costellazione con le lettere greche e ovviamente l'ha fatto in ordine luminosità quindi la stella alfa la prima lettera dell'alfabeto greco è la stella che per lui era la più luminosa poi la beta era quella subito dopo e così via in genere ci ha preso qualche volta no in questo caso non ci ha preso perché riegel è più luminosa mediamente di bedelgeus ora che si sia sbagliato che si hanno diminuita la luminosità di bedelgeus così via fatto sa che riga lei la beta della costellazione di di orione tenete conto anche che la stragrande maggioranza dei nomi di stelle all'interno delle costellazioni sono nomi arabi e questo per storie per storia nel senso che quando poi all'epoca dei greci e dei romani quindi fino a tutto l'impero le stelle identificate come dicevo prima tranne qualcuna che aveva dei nomi dei nomi propri ma erano molto rare poi è caduto l'impero si sono perse tutta una serie di conoscenze scientifiche periodo tra virgolette buio del medioevo ha comportato tra le altre cose la perdita proprio fisica di alcuni di alcuni testi fondamentali dell'antichità e noi abbiamo potuto recuperare tutta una serie di informazioni antiche grazie agli arabi perché gli arabi quando hanno conquistato una parte del mondo dell'ex mondo classico hanno conquistato anche le biblioteche e hanno tradotto in arabo tutta una serie di testi classici che poi noi avevamo comunque perduto noi di alcuni testi classici conosciamo solo la versione araba e quindi hanno tradotto alcune dei nomi delle stelle con i nomi arabi chi chi ha poi letto questi libri non conoscendo l'arabo interpretato che quello fosse il nome della stella effettivamente quella era solo la traduzione araba del vecchio nome la scella destra del grande gacciatore le tre stelle della cintura di orione invece sono la stella delta leta e zeta mintaca alnilam e alnitac che sono tre stelle della cintura sono tre stelle praticamente della stessa luminosità sono praticamente equidistanti e sono facilmente riconoscibili impossibile non accoggersi della costellazione e alcune costellazioni di fatto sono un indizio della stagione orione è un indizio del dell'inverno che arriva troppo tra virgolette così come la visione delle tre stelle che formano il triangolo estivo cioè che è questo diciamo questo triangolo formato da tre stelle molto luminose di costellazioni estive che sono d'eneb nel cigno vega nella lira e d'eneb scusa d'eneb nel cigno vega nella lira e il time nell'aquila formano questo triangolo e per i ragazzi anglosassoni è una grande gioia perché formano questa grande v che per loro vuol dire vacation quando si vedono inizio le vacanze quindi quando noi vediamo cominciamo a vedere sorgere magari non va all'alba ma magari verso le mezzanotte così via le stelle del triangolo estivo noi capiamo che sta arrivando la primavera sta arrivando l'estate quindi queste sono esperienze che si possono tranquillamente fare cioè riconoscere le stagioni da quale sono le costellazioni che stanno sorgendo una determinata ora e che sono esperienze semplici e che in qualche modo ci riportano a essere fratelli o cugini per quanto lontana di popolazioni molto antiche ci sono ovviamente tante altre stelle ma insomma orione presenta una serie di oggetti di vario di vario tipo insomma ampia ampia scelta m42 per esempio per la grande nebulosa di orione di cui parleremo che non possiamo farvi vedere il telescopio perché è talmente grande che nel nostro telescopio intera non si vede però credo poi maurizio non fermerà quali sono gli oggetti che ha deciso di far vedere credo che faremo vedere le stelle al suo interno la nebulosa testa di cavallo ci parleremo tra poco è anche un oggetto molto caratteristica e tanti altri oggetti questa è la grande nebulosa di orione chiaramente questa è una foto diciamo sempre non per giustificarci ma per spiegare come funziona quando si pone l'occhio al telescopio tutti gli oggetti risultano grigi a meno che non abbiate un telescopio molto molto grande perché questo perché i fotoni che arrivano da questi oggetti distanti per quanto amplificati al telescopio sempre quelli sono e sono troppo pochi per eccitare le cellule della retina che sono sensibili ai colori che sono i coni la retina ha formato il grosso modo da due tipi di cellule i coni e bastoncelli bastoncelli sono monocromatici ne hanno una grande sono nati per avere una grande sensibilità quindi riconoscono benissimo le forme i coni invece che si sono evidentemente evoluti nella luce diurna riconoscono i colori però che cosa succede noi siamo animali diurne non siamo un ufi o gatti quindi quando la luce scende sotto un certo livello i coni diventano cechi non lavorano più e quindi noi vediamo in bianche nero per vedere il proverbio tutti notte tutti i gatti sono bigi e deriva da questo fatto qui a certo punto noi riusciamo ancora a riconoscere le persone perché riconosciamo le forme il viso riconosciamo i particolari perché i bastoncelli sono specializzati riconoscere le forme e hanno e i dettagli quindi una grande sensibilità ma sono totalmente monocromatici e quindi noi quando siamo in penombra riusciamo a riconoscere persone ma non riusciamo a capire per esempio il colore del problema del maglione che indossa che cosa vuol dire questo in termini astronomici vuol dire che quando osserviamo un oggetto occhio nudo al telescopio non lo vediamo in bianche nero oltretutto l'occhio non integra come si so dire cioè dopo che l'occhio si è abituato alla visione notturna quindi dopo dieci minuti un quarto d'ora l'ideale è una mezz'oretta circa quindi l'occhio è abituato al buio a quel punto più di quello non può vedere l'occhio umano non integra come si può dire non somma i fotoni non è che se guardate un oggetto per 20 minuti lo vedete meglio che se lo vedete per dieci minuti sempre uguale lo vedete la macchina fotografica il sensore si si dio prima ancora la pellicola invece no integra più fotoni arrivano più l'immagine migliora e questo è il motivo per cui le immagini che vedete sono a colori ovviamente se la pellicola il sensore a colori ci sono sensori monocromatici chiaramente che vi danno immagini monocromati e questo è il motivo per cui questa bellissima immagine di della nebulosa di orione è così colorata i colori hanno un senso rappresentano le diverse lunghezze d'onda della luce emessa dagli atomi che costituiscono le nubi della nebulosa stessa in effetti tutta orione immersi un'enorme grande nebulosità se ne siamo accorti in questi ultimi venti anni dove la disponibilità di sensori digitali molto potenti e molto sensibili ha permesso di ottenere delle immagini di straordinari dettagli nebulosa di orione è qualcosa di incredibile a vedere anche in un cielo possibilmente buio ma anche in città ha un periscopio perché da comunque una sensazione incredibile anche in bianco e nero ve lo posso garantire ora quale sia l'oggetto più spettacolare del cielo chiaramente molto soggettivo probabilmente la nebulosa di anzi sicuramente nebulosa di orione è l'oggetto più comuni tra quelli comuni più spettacolare ce ne sono tanti altri ma insomma è qualcosa di incredibile intanto è visibile occhio nudo come una sorta di sfocatura della della stella al centro della spada che sono quelle stelline perpendicolari alla cintura che pennono che sembra proprio indicare la spada dalla cintura di orione tutta la nebulosa circonda una serie di stelle nella fase iniziale della propria vita in particolare quattro stelle stella multipla che è chiamata teta orionis poi la vedremo che forma il cosiddetto trapezio perché la forma che danno i quattro vertici delle stelle da sembra proprio un trapezio e all'interno della nebulosa noi abbiamo trovato tantissimi oggetti che rappresentano le stelle nella primissima fase della loro formazione quando la nebulosa che la piccola nube di idrogeno si è contratta comincia a essere abbastanza calda da iniziare le prime reazioni nucleari quindi noi troviamo questi globuli pieni di polvere che si chiamano globuli di boc e che rappresentano il bozzolo all'interno delle quali sta nascendo la nuova stella questa è un'altra nebulosa conosciutissima nebulosa testa di cavallo non a caso il nome è ben identifica la forma della costellazione qui la forma è data non dalla parte luminosa che è quella rossa che vedete dietro ma è data dalla nebulosità dalla nebulosa oscura ossia dalle polveri ora quando noi diciamo le polveri non dice possibile così tanta la polvere oscuri tenete conto che le polveri che ci sono sono estremamente rarefatte non pensate la polvere che potete avere a casa che è molto ma molto più densa qui parliamo di granelli di polvere per chilometri cubici se non addirittura per anni luce cubico però le distanze sono talmente elevate talmente elevate che la quantità di polvere grande e può oscurare la luce retrostante in questo caso chiaramente cosa succede abbiamo una nebulosità diffusa che quella rossa che ovviamente prosegue anche sotto ma che è oscurata da queste bande questa banda di polveri che per un caso totalmente fortuito ha assunto una forma che per noi terrestri è conosciuta è quella di una testa di cavallo probabilmente per un un abitante di un'altra di un'altra di una stella abitante in pianeta che orbita intorno ad un'altra stella questa forma sia assolutamente normale o assolutamente insignificante dove si trova si trovano i pressi della stella alnitac che per intenderci e quella più a sinistra della cintura del di orione e sopra alnitac noi troviamo un'altra grande nebulosa che la nebulosa fiamma anche questa questa non si vede a occhio nudo così come la legna a occhio nudo intendo anche al telescopio così come la nebulosa testa di cavallo la nebulosa testa di cavallo in particolare è molto elusiva e a occhio nudo è veramente veramente difficile non impossibile vederla mentre la nebulosa fiamma è in alcuni casi è si può entra a vedere ma basta una foto molto semplice per comparire perché è molto luminosa il perché nel nome della nebulosa fiamma è presto detto e penso me ne possiate accorgere dalla forma anche qui vedete abbiamo dei gas delle nebulose delle nebulosità di colore rosso perché il colore quello che noi percepiamo come il rosso è una lunghezza d'onda emessa dagli atomi eccitati delle dalle stelle del gas che è fondamentalmente idrogeno e mette in questi in questa lunghezza d'onda e poi ci sono chiaro queste nubi di polveri che in qualche modo dividono la nebulosa luminosa e gli danno questa forma fiammeggiante ecco questa è una visione d'insieme tanto per darvi un'idea non si vede la nebulosa di orione questa è almita che per intenderci la stella ma insomma è una classica foto che molti astrofili astrofotografi prima o poi fanno se la guardate in dettaglio c'è tanto no perché le nebulosità non si ferma la fiamma e alla testa di cavallo ma anche qua sotto vedete ci sono delle nebulose oscure ma se ci fate caso la nebulosità è ovunque in effetti questo vale per orione orione trovate la nebulosità in qualunque punto della 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 costellazione si è fatta una foto a lunga posa praticamente tutto rione immerso in una grande nebulosità dove le parti più corti cospive sono chiaramente la nebulosa di orione e la nebulosa fiamma ma ce ne sono tante altre con m78 e così via colgo l'occasione poi vi faccio vedere un piccolo piccolo video e poi passo la parola a maurizio colgo l'occasione per dire una cosa per chi mi ha sentito parlare di m 78 piuttosto che m 42 e così via non sto giocando a battaglia navale per chi non è un esperto di diciamo di astronomia o comunque non è abisso a queste queste terminologie m 42 vuol dire il quarantaduesimo oggetto del catalogo di messi e messi e charles messi era un astronomo francese che ha compilato il primo catalogo ufficiale conosciuto gli oggetti non stellari e tra parentesi l'ha compilato per uno scopo se vogliamo abbastanza banale lui era un grande cacciatore di comete ne ha scoperte svariate e osservare cacciare comete è un lavoro abbastanza complicato perché le comete sono oggetti elusivi non dovete pensare grandi comete con le con le code quelle sono abbastanza molto rare tipicamente le comete sono oggette nebulose delle pallocchette molto sfumate che se va bene però sentono la chioma la coda è molto molto raro e che si possono vedere solo quando si avvicinano sono molto vicini proprio fisicamente al sole quindi sono quasi al periello perché sono oggetti piccoli qualche decina di chilometri e si rendono visibili semplicemente proprio perché il gas scusate il ghiaccio all'interno del nucleo passa immediatamente lo stato gassoso e forma diciamo questa questa chioma poi eventualmente una grande coda ora se voi osservate una cometa che non sia una grande cometa e l'ha osservata telescopio quello che vedete è una forma più o meno lunga dipende dalla prospettiva anche assolutamente diffusa e charme si è ne beccava tante di queste forme solo che una cometa siccome è nella fase diciamo più vicina di dell'orbita più vicino al sole va molto veloce quindi di giorno in giorno si sposta lungo il cielo questi altri oggetti non si spostavano più di una volta si sbagliava era convinto aveva scoperto una nuova cometa solo per questo oggetto non si spostava a un certo punto si è stancato probabilmente anche di fare di perdere tempo di fare brutta figura magari con la fidanzata insomma dicendo di guarda ho scoperto una cometa invece cometa non era fatto sta parte le battute che tutto si stufa e compila un catalogo gli oggetti che sembrano comette ma comete non sono così dice prossima volta invece di perdere tempo a guardare se si sposta vedo se nel catalogo degli oggetti che ho già censito come non comete e passolta bene questi oggetti sono gli oggetti catalogo messi e cosa sono ma sono tutti oggetti quelli che noi astrofili chiamiamo oggetti del profondo cielo ci sono ammassi stellari galassie nebulose la nebulosa di orione per esempio e così via e così facendo messi e ha compilato ha fatto un grande servizio agli astrofili perché perché il catalogo di messi e formato d'oggetti tipicamente abbastanza luminosi alle alla portata del di un telescopio amatoriale neanche troppo grande sono circa 110 oggetti insomma l'astrofilo appassionato che si compra il telescopio di una certa dimensione dopo che ha cominciato ad osservare i pianeti la luna il sole con un filtro poi diceva bene cosa appunto appunto gli oggetti e catalogo messi e perché perché sono oggetti abbastanza semplici non tutti semplicissimi ma comunque semplici tenete conto che messi e che osservasse con telescopi giganteschi osservata al centro di parigi perché all'epoca chiaramente non c'era inquinamento luminoso l'unico suo problema era il fumo dei camini chiaramente che rendeva l'immagine ovviamente pessima ma a parte questo il cielo di parigi era praticamente un cielo oscuro buio ok vi voglio far vedere adesso se riesco un piccolo video della simulazione di cosa succede all'interno della nebulosa di orione e poi passo la parola a maurizio vi farà vedere un po di oggetti che li commenteremo insieme soprattutto lui ovviamente allora un attimo questo lo possiamo di qua ok allora questo è un video scaricato da youtube che era una simulazione della di che cosa succede all'interno della nebulosa di orione lo fermerò ogni tanto che il video è una simulazione dura qualche decina di secondi questa è la nebulosa di orione vedete adesso cominciamo a viaggiare allora io spero che si vedano vedete questi questi oggetti di punto un po con il mouse che hanno queste sorte di comete ecco questi sono i granuli di bocca ma soprattutto sono le stelle che stanno nascendo quando nascono se le producono quello si chiama un vento stellare fortissimo e in qualche modo si liberano del bozzolo quindi escono proprio fuori ma più che uscire si spazzano via il termine esatto tutto il bozzolo circondava formato da gas ma soprattutto polveri e appaiono in tutta la loro magnificenza intorno alla loro luminosità questa questa sorta di espulsione non è simmetrica ma tipicamente avviene lungo due assi e questo è il motivo per cui qui vedete una coda perché una questione di prospettiva andiamo avanti adesso ne andiamo a vedere uno in dettaglio per vedere cosa succede se liberiamo il gas ecco questo è la stella adesso la fermo il video questo è la stella che sta nascendo di fatto questo è il disco che probabilmente un disco potrebbe essere un disco protoplanetario sia un disco di accrescimento di polvere eccetera che potrebbero anche formare dei veneti e questi sono i getti che vengono emessi dalla stella e che stanno spazzando via tutto il gas intorno al il gas da cui è nata di fatto ok adesso riparte ma non è quello che ci interessa bene maurizio tu sei pronto cirino eccomi sono pronto perfetto ti devo dare il controllo ti si come relatore organizzatore come relatore penso che si così condividevano lo schermo ok è il nuovo relatore perfetto perfetto e niente allora grazie rino per sempre per la bellissima esposizione e un saluto a tutti e benvenuti qui nella cuba principale del parco astronomico liveo retton quello che vedete in primo piano è il nostro telescopico con il quale cercheremo di riprendere degli oggetti in diretta rigorosamente in diretta e questo telescopio è un telescopio specchi non è il classico telescopio di quelli che si vedono magari dei film lunghi che sono quelli a lente magari e chi non è avviso di non è astrofilo che non ha mai visto telescopi magari spendo due parole nell'illustrare questo tipo di telescopio uno specchio è un telescopio a specchi e come dicevo prima di quello specchio principale a un diametro di 350 mm perché a specchi fa delle riflessioni all'interno del tubo in maniera tale che può essere può avere una dimensione assai ridotta difatti se questo telescopio fosse diciamo allungato avesse una vista esplosa sarebbe lungo tre metri e mezzo quindi entrerebbe a malapena nella nostra cura io momentaneamente mi egli so così risparmiamo nella banda altrimenti abbiamo ritardo quindi lascio solo l'audio per il momento e questo qui spero vediate il mio cursore e lo specchio principale sta nella culatta quello che stiamo vedendo si è una lastra correttrice e al centro della lastra correttrice c'è uno specchio che si chiama secondario la luce entra attraverso la parte principale che è questa che sto indicando batte nello specchio secondario nello specchio principale viene riflesso sbatte nello specchio secondario viene riflesso ancora un'altra volta fino a finire nella parte centrale dello specchio principale che ha afforato e va a finire su un sensore che è una fotocamera diciamo fatta proprio per uso astronomico si chiama camera ccd che adesso non si vede perché occultata dalla prospettiva allora l'argomento di questa sera è la costellazione di orione di cui lì non ci ha parlato ampiamente e andiamo a vedere qualcuno di quegli oggetti di cui abbiamo parlato prima innanzitutto vi presento pure fernando pierri che alla console che gestisce il telescopio perché sarebbe troppo complicato gestire e parlare e andiamo a vedere e la famosa grande nebulosa di orione proviamo a fare una foto il telescopio era puntato proprio sulla grande nebulosa di orione e si chiama m42 ecco qui e questa è la foto che abbiamo fatto in precedenza ma adesso ve la facciamo in diretta come vedete c'è questa barra che è una numeri percentuali che indica il tempo di esposizione qui stiamo facendo una foto con 30 secondi di esposizione non vi aspettate quelle foto spettacolari che avete visto prima perché quelle sono fatte riprese con telescopi professionali che costano decine di migliaia di euro centinaia di migliaia di euro sono state fatte sotto cielo ecco qua questa è la nostra nebulosa di orione come vedete la parte centrale è quella più illuminata dalle stelle che stanno al suo interno come vi ha spiegato prima rino e questa è una foto di soli 30 secondi le foto che avete visto prima belle a colori richiedono ore e ore di tempi di esposizione un cielo buio e una elaborazione che dura anch'essa tantissime ore noi con solo 30 secondi vi vogliamo dare un'idea di quella che è la nebulosa di orione queste stelle che vedete qui in primo piano che sembra che abbiano una colatura come se fosse una candela sono le stelle che stanno all'interno della nebulosità che ovviamente è molto molto più grande copre una porzione cielo molto più grande a questa lacrimatura diciamo così è un fenomeno purtroppo tipico delle camere digitali si chiama blooming e praticamente quando c'è troppa luminosità diciamo è come se riempie un bicchiere continua a riempirlo e l'acqua esce fuori e così accade per per le immagini astronomiche e la nebulosa di orione è una delle più brillanti del cielo e sicuramente credo che sia l'oggetto più fotografato dagli astrofili perché è molto facile da fotografare come avete visto noi che soli 30 secondi abbiamo bruciato la pellicola come si dice in gergo vedete la parte centrale è praticamente bruciata sovraesposta e si trova in quella regione dove la cacciatore rione ha la spada e dista da noi ben 1270 anni luce cioè la luce che abbiamo ripreso proprio in questi istanti è partita da questa nebulosa 1270 anni fa si estende molto estesa adesso ripeto non la vediamo tutta perché occorrerebbe un tempo di esposizione maggiore tipo un'ora e così via per vederla tutta appieno ma quanto è stesa sembra più piccola rispetto vedete queste sono le stelle e sembra un ammasso di polvere e gas tutto sommato non grandissimo in realtà si estende per ben 24 anni cioè la luce di una stella che partisse da un suo estremo per arrivare l'altro estremo impiegherebbe 24 anni viaggiando alla velocità della luce quindi è qualcosa di estremamente esteso contiene al suo interno un ammasso molto giovane di cui si vedono le quattro stelle principali non qui perché è bruciato diciamola l'immagine queste quattro stelle vengono chiamate dagli astrofili il trapezio perché formano questa figura geometrica e la cosa buona di questa nebulosa che è anche democratica perché stando sull'equatore celeste è visibile da entrambi gli emisferi l'emisfero nord dell'emisfero sud quindi se ci sono magari domande io non riesco a vedere la unizio mi senti tu sì adesso di vento ok perfetto se vogliamo possiamo far vedere anche quella scattata ripresa live con il macus of piccolino tanto ce l'abbiamo puntata il marzo un po gergo è quella l'altro tipo di telescopio che stava su quello principale molto più piccolino ci serve ecco perfetto e questo più piccolino che sta a cavallo del telescopio principale serve per diversi scopi per esempio per fare la guida al telescopio principale durante le fotografie oppure serve per le riprese planetarie perché per i pianeti servono delle delle macchine particolari che sono chiamate webcam con la ccd già non si possono osservare ecco questa è l'immagine che si vede da quella utilizzando quel telescopio più piccolo quindi vedete anche con telescopi molto piccoli si possono fare bellissime foto vedete anche qui come come bruciata la pellicola proprio perché è estremamente luminosa e si comincia a vedere il colore si abbassando un po il contrasto lavorando sul guadagno si riesce a diminuire la luminosità sì sicuramente adesso vediamo fermando insomma facciamo un po di perché così si vede bene bene la lumina la parte centrale anche sì si vede meglio un pochino così sì sì si vede decisamente meglio i colori sono un po più vividi però stiamo parlando di una foto presa così sono solo cinque secondi tra l'altro di esposizione quindi diciamo che il tempo è molto breve quindi il rumore anche maggiore rapporto segnale rumore comunque adesso la parte centrale si nota anche meglio c'è soltanto un po la parte proprio questa qui che ancora bruciata possiamo ancora diminuire per cercare di migliorarla però ci sono sempre delle stelle che comunque risultano bruciate ecco questo è il trapezio che si intravede al centro sono le stelle citano la rinvico col cursore se si vede il mio cursore sono queste quattro stelle si vedono benissimo con un piccolo telescopio ad occhio nudo che si è molto meglio una cosa buona della dell'elettronica quindi dell'informatica che ci permette una volta acquisita l'immagine ecco le regge di lavorare sopra ecco qua queste sono le quattro stelle del trapezio uno due tre quattro ripeto si vedono molto meglio con maniera visuale piuttosto che con la fotografia perché la fotografia perché sono coperte dalla nebulosa principale tra parentesi l'occhio umano e così dice un'elevata dinamica cioè riesce a vedere a una capacità di vedere sfumato una quantità di sfumature incredibili quindi paradossalmente in queste situazioni dove c'è tanta nebulosità e contemporaneamente delle stelle luminose riesce a percepire benissimo stelle luminose e contemporaneamente luminosità la macchina fotografica o il sensore in questo caso invece tende a sovraesporre ovviamente la parte più luminosa o a sottoesporre quella meno luminosa no è sempre un problema a trovare la giusta la giusta sì di fatti uno deve avere l'obiettivo se sceglie l'obiettivo e si regola di conseguenza l'occhio umano è una macchina meravigliosa ancora ineguagliata però tutto sommato con queste camere ccd come dicevo prima possiamo analizzare la foto mentre fino a 20 30 anni fa e lì non se lo ricorda perché quando eravamo giovani noi c'era ancora la pellicola fotografica uno faceva una fotografia e quella rimaneva non potevamo contrastata come stiamo come sta facendo fernando adesso togliere mettere cioè c'è stato un progresso tecnico e tecnologico spaventoso rispetto a 30 anni fa va bene io direi che possiamo passare anche al prossimo oggetto visto che ci sono ce ne sono diversi fernando quale oggetto vuoi riprendere adesso visto che siamo diciamo su m42 potremmo spostarci sì o m43 o ngc 20 24 che sarebbe la fiamma potremmo provare la fiamma poi riusciamo a vedere la testa di cavallo sì abbiamo già fatto pure un'elaborazione in modo da rendere quello che maurizio diceva appunto con la somma delle immagini si ottengono delle risoluzioni migliori quindi magari prima non so dimmi tu rino che cosa riprendiamo prima per me va benissimo se intanto facciamo vedere la testa di cavallo e poi riprendiamo sì allora prendiamo allora la la testa di cavallo e la b 33 la barnard 33 che è una nebulosa come diceva rino una nebulosa oscura e che viene fondamentalmente contrastata da quella che è ic 434 che è la nebulosa emissione che poi genera quella che è la la testa di cavallo quindi io prendo la ic 434 434 la cerchiamo qui con il nostro planetario centriamo l'oggetto qui naturalmente non si vede nulla perché un disegno quindi però adesso che andiamo a muovere il telescopio e notiamo che il telescopio si muove che stante credo vede proprio qui perfetto non si muove molto perché in effetti e nella zona quindi voglio dire non deve essere stato un piccolo spostamento infatti allora scusa fermando che spegniamo la linda verso i sensi che spiega un attimino mentre tu gestisci la foto la web gamma dolare di led all'infrarosso per illuminare di notte e praticamente questo però questo radiazione infrarosso infrarossa da molto fastidio la ccd per cui è come se uno stesse facendo una fotografia e ci fosse una persona vicino con un faro che ti abbaglia quindi ci dimentichiamo di spegnerla e la foto viene un po non viene male pensiamo ma sarà passata una nuvola non funziona qualcosa invece il problema è molto più semplice adesso questa è spenta ok adesso facciamo una posa su la testa di cavallo di 30 secondi quindi come potete vedere qui il cursore sta andando avanti c'è da dire una cosa che la testa di cavallo è un oggetto molto poco luminoso per cui 30 secondi come vedrete mi aspetto qualcosa di veramente labile però prima mentre lino parlava ma abbiamo fatto ripreso tante foto e sommate assieme come se fosse stata una foto a lunga cosa poi tornando le mostrerà adesso è comunque già abbastanza visibile come potete vedere questa è presa in diretta adesso sì 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 uno scatto di 30 secondi una posa singola appunto della dc 434 con la testa di cavallo b 33 bar 33 questa è una posa singola mentre prima questa la vediamo naturalmente perché abbiamo un sensore molto molto sensibile ed è già presente la testa di cavallo se invece andiamo ad osservarla con diciamo la webcam notiamo che non si vede nulla perché non si vede nulla intanto perché le dimensioni del telescopio con cui stiamo riprendendo quello è più piccolo e quindi già questo va e poi la configurazione ottica è differente ma poi perché la ccd che lo sta riprendendo non ha la sensibilità che ha la camera principale che sul telescopio quello più grande questa era giusto una parentesi mentre queste sono le foto che con maurizio abbiamo fatto prima come qui potete vedere questa è la somma di sono 1200 secondi di esposizione sono tante immagini sommate insieme che fanno una somma di 1200 secondi e come potete notare si nota anche l'emissione della stella più vicina che dovrebbe essere al alni tac alni tac alni tac alni tac non ricordo adesso la stella più vicina alla testa di cavallo che una delle stelle della della cintura di orione alni tac che poi è quella della fiamma una fiamma sì sì nel frattempo se ci sono domande fate pure non è che ci scandalizziamo un pochino di più ecco qui si vedono chiaramente i raggi dell'emissione il disturbo di Alnitac che è molto luminoso però se notate qui è proprio bella infatti è venuto abbastanza bene si notano pure delle altre variazioni sulla testa di cavallo delle zone un po' più chiare che con la foto diciamo con lo scatto singolo non si notano di tanto sono poco presenti diciamo che è una foto meno meno non parliamo di risoluzione diciamo con meno segnale con meno segnale sull'immagine diciamo così uno dei vantaggi poi potranno dire sicuramente meglio gli amici soci insomma uno dei vantaggi della fotografia digitale è che appunto essendo il risultato un oggetto digitale un file fondamentalmente si può si possono fare due genere di operazioni che sono fondamentali intanto come diceva giustamente Maurizio sommare insieme i frame quindi le immagini e questa cosa comporta comporta che il rapporto tra il rumore e il segnale cioè la cosa che ci interessa aumenti a favore del segnale se avete visto la prima foto la foto della testa di cavallo con lo scatto singolo è una foto molto rumorosa no? eccola vedete è granulosa è sporca tra virgolette sembrerebbe ma quando io sommo tante foto insieme anche fatte tutte di 30 secondi il risultato che siccome quel rumore quel rumore che voi vedete è casuale la somma lo fa scomparire mentre dove c'è l'immagine è sempre lì il pixel illuminato è sempre lì e quindi di conseguenza aumenta la luminosità dell'oggetto stesso e questa è la prima cosa la seconda cosa è l'elaborazione cioè io posso come ha fatto vedere benissimo prima fernando sulla sulla immagine della nebulosa m42 io posso aumentare diminuire il contrasto o fare come si dice lo stretching dell'istogramma e quindi esaltare determinati particolari o viceversa cancellarne altri e questo è un tipo di elaborazione che per esempio con le macchine fotografiche con la pellicola fotografica non si poteva fare questo è questo è stato un grande un grande passo in avanti tenete conto che associando a queste cose la maggiore sensibilità dei ccd porta al fatto che non è raro il fatto che una foto un'immagine sia stata venga come risultato di una quantità molto grande di immagini presa in serate diverse in serate diverse perché magari l'elaborazione ideale è sei ore uno non ha sei ore di tempo per fare l'immagine ma prende tante immagini in due tre serate diverse e poi le compone insieme questo questo è una delle cose che consente di fare la tecnologia oggi le alcune delle stelle che vengono prese sono al limite della luminosità che delle grandi survey dei telescopi degli anni 50 e 60 cioè un telescopio medio di un'associazione ma anche di un singolo astrofilo con una buona camera ccd arriva alla magnitudine che 20-30 anni fa erano a pannaggio solo dei grandi telescopi e questo porta chiaramente la possibilità di fare ricerca astronomica in maniera molto più approfondita ok allora Rino che ne dici visto che siamo vicini puntiamo la fiamma la fiamma certo perfetto sì direi che possiamo concludere in bellezza insomma sì infatti è stupenda la fiamma da fotografare è un oggetto molto molto bello n c visto che abbiamo fatto la fatica di riprendere anche m78 si poi facciamo m43 ve li facciamo vedere elaborati perché ma riprese proprio fresche fresche 10 minuti fa ok center adesso vediamo il telescopio naturalmente si muoverà pochissimo perché sempre lì magari già si è mosso infatti abbiamo fatto in tempo a vederlo però niente spegniamo allora la domanda intanto voi rappresentate la fiamma insomma rispondo già maurizio ha detto quanto è quanto parte il campo visivo occupa la testa di cavallo allora maurizio ha dato un'informazione che io personalmente non conoscevo cioè che occupa circa 4 primi d'arco cosa vuol dire 4 primi d'arco allora sapete che gli angoli si misurano in gradi ogni grado c'è una suddivisione sessagesimale quindi è a 60 primi d'arco e ogni primo d'arco è diviso a sua volta in 60 secondi d'arco per dare un'idea la luna occupa mezzo grado cioè 30 minuti d'arco quindi la nebulosa testa di cavallo occupa 4 primi quindi grosso modo un settimo 7 per 4 28 della luna piena ok eccola qui guardate che spettacolo e questo con pochi secondi la fatica entrare tutta dentro la dentro non ci entro infatti sono solo 20 secondi questa disposizione per dare un'idea del campo che stiamo inquadrando visto che Dino ha fatto la similitudine con la luna noi abbiamo questo rettangolo un campo di cielo inquadrato di 13 primi per 6 primi d'arco cioè dovrebbe essere circa un terzo un quarto della della luna piena quindi se avete l'idea di come è fatta la luna piena nel cielo prendete dividetela in 4 e prendete uno spicchietto piccolo uno spicchietto un quarto e quello è il campo che stiamo inquadrando in questo momento quindi si tratta di qualcosa veramente piccolo ok questa è appunto una posa da 20 secondi come dicevamo prima quindi come diceva Rino potete notare oltre all'immagine che è stupenda già così tutto il rumore che c'è comunque di fondo noi abbiamo fatto in precedenza con Maurizio una una posa diciamo una somma di pose di quanti secondi 600 secondi totali 10 immagini e l'immagine che si ottiene è questa quindi come potete notare è veramente bella cioè l'immagine migliora migliora tantissimo migliora tantissimo questa è solo 10 minuti di posa a volte le pose astronomiche durano ore diverse ore e addirittura giorni ci sono degli astrofili di quelli più esperti di quelli più medicolosi che riescono a fare pose di uno stesso oggetto in notti diverse quindi sommando il tempo di esposizione possono arrivare anche a diecine di ore e giorni vi ricordo che la posa più lunga fatta con l'Hubble Space Telescope per vedere una zona di cielo molto buia e profonda mi sembra di 21 giorni una posa di 21 giorni consecutivi si l'ultra deep field praticamente esattamente è una cosa allucinante facciamo un confronto visto che ci troviamo allora mettiamo questa ok e quest'altra qui la riduciamo ad icona purtroppo non le posso far entrare entrambe nel campo posso forse ridurre un pochino le dimensioni però si dovrebbe vedere che l'immagine è molto più più definita più pulita è proprio la diciamo la gradazione dei grigi è più è più complessa cioè più dinamica anche Maurizio io per il loro risposto solo a te poi ho risposto a tutti alla domanda su ah sì su di Betelgeus c'è un'altra domanda che dice come incide in pratica la focale del telescopio sto rispondendo diciamo più aumenta la focale più diminuisce diciamo il campo inquadrato lo sto scrivendo però si bisogna rispondere a voce in questo caso ah sì ormai l'avevo fatto comunque così più aumenta la focale più più diminuisce il campo inquadrato più viene più si ha un ingrandimento diciamo però è tutto in funzione appunto della focale come diceva Maurizio e anche in base alla dimensione della del ccd del proprio del sensore che più piccolo è e ancora di più si ingrandisce per una questione proprio di fuoco sul sensore stesso in sostanza ah scusa ma scusa no 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 niente niente era soltanto questo anni fa una notte dei ricercatori affrascati dei ricercatori hanno portato una riproduzione del cannocchiale di Galileo il cannocchiale di Galileo aveva una lente di due centimetri tra lentesi anche diaframmata quindi piccola e un'esperienza abbastanza traumatica è stata cercare di puntare Giove esattamente come ha fatto come ha fatto Galileo era praticamente impossibile era praticamente impossibile mi sono reso conto di che bravura ha avuto Galileo nel farlo perché il campo visivo di quel telescopio data dalla piccola lente e dalla lunghezza perché aveva una focale di circa un metro praticamente aveva un campo coperto piccolissimo ora non so se non è capitato di puntare un oggetto attraverso un tubo cercate prendete un tubo lungo e cercate di guardare un oggetto lontano scoprirete il tubo a vuoto scoprirete che è estremamente difficile perché il campo coperto diciamo dalla visione tubo e più è lungo e più è piccolo fa sì che praticamente sia estremamente difficile puntare esattamente l'oggetto se voi avete diciamo il campo intero dato dagli occhi è facile guardare dove sta un oggetto ma vuoi immaginare guardare attraverso un telescopio come quello di Galileo che ha un campo minuscolo e soprattutto puoi tenerlo puntato perché poi la terra ruota l'oggetto si sposta e quindi tenerlo continuamente fermo non essendoci un motore chiaramente che abbiamo adesso del controbilancio rodazione terrestre è stata deve essere stata veramente difficile eppure pensiamo che Galileo così facendo ha fatto una serie di osservazioni che sono state fondamentali per la scienza insomma perfetto se vuoi Rino puntiamo velocemente M43 perché quella credo di non averla fatta una somma di immagini e poi faccio vedere M78 o non so se vuoi ti faccio vedere prima M78 come preferisci allora io ne conosco tutte e due quindi certo allora apriamo M78 questa è M78 è molto molto bella pure questa tra l'altro leggevo M78 è visibile da entrambi gli emisferi quindi è godibile da tutti ma è la nebulosa riflessione più brillante del cielo per brillantezza ovviamente qui si intende come magnitudine magnitudine assoluta e dista da noi 1600 anni luce quindi la luce che ci è arrivato proprio in questi momenti che stiamo che abbiamo catturato questi fotoni da questa nebulosa è partita ben 1600 anni fa l'imperio romano stava quasi a disfarsi quando questa luce questi fotoni sono stati generati in quella zona della nebulosa e altra cosa che leggevo è stesa circa quattro anni luce quindi non tantissima quattro anni luce come sappiamo alla distanza dal sole a prossima centauri che è la stella più vicina a noi quindi è come se ai margini di questa nebulosa ci fossero da una parte il sole e dall'altra parte prossima centauri quello che sembrano due nebulose separate in effetti è un'unica nebulosa e anche qui la parte centrale è una parte di di polveri che separa la nebulosa in due parti ma in effetti la nebulosa è una sola sarebbe questa questa parte qui che si unisce questa è una parte buia oscura diciamo della nebulosa questa parte qui che non viene illuminata da nessuna stella quindi la polvere e i gas che stanno qui non essendo illuminati oppure stanno tra noi e la stella eventuale che può illuminarli non si vedono perfetto e a questo punto potremmo provare velocemente se il tempo ancora lo permette a riprendere M 43 allora quindi diciamo il nostro telescopio M 43 find center eslio adesso stiamo muovendo il telescopio naturalmente essendo sempre tutto molto vicino i movimenti sono cioè il telescopio non si muove assolutamente pochissimo ok e infatti il telescopio è arrivato sull'oggetto lo potete notare perché c'è questo cursore qui che indica che l'oggetto è stato è stato puntato questo lo chiudo spengo sempre la la camera perfetto e faccio sempre una posa aumentiamo di 30 secondi vediamo intanto che tu fai la posa io ero dimenticato di dire una cosa il nostro parco astronomico questo non è l'unico telescopio anzi questo è un telescopio che il pubblico non usa nel senso che il telescopio per la ricerca è che noi usiamo in forma remota tante volte e che ovviamente a questo punto è diventato fondamentale per fare le attività online ma noi abbiamo una serie di telescopi il primo telescopio da 40 centimetri quindi più grande di questo per il pubblico per fare le osservazioni visuali in giardino più una serie di altri telescopi portatili perché che noi montiamo alla bisogna quando ed è diciamo praticamente sempre insomma abbiamo più di 40 persone o 50 persone a seguire le nostre attività e quindi per evitare code troppo lunghe anche in un periodo non covid insomma teniamo diversi telescopi per poter fare osservare diversi oggetti e quindi dare la possibilità di vedere diverse cose e anche diverse categorie di oggetti nella stessa serata insomma ecco M42 è fanta è stupenda questa anche se una sola posa io me la salvo perché è veramente bella quella è M42 per intenderci è guarda che bella ma è stupenda proprio scusatemi io faccio così save us è molto molto bella facciamo M43 e poi le sistemiamo con calma dopo intanto stiamo salvando su desktop intanto che tra queste cose io voglio dire in realtà M42 e M43 dovrebbero essere congiunte c'è questa nebulosità oscura che le separa qui si vede ancora più contrastata guardate che bella questa nebulosità oscura e praticamente fanno parte della stessa gruppo complesso nebuloso molecolare di orione solo che queste queste nubi così diciamo di polveri sono illuminate da stelle invece quest'altre polveri che stanno qui non sono illuminate quindi a noi ci appaiono bui giusto per farvi vedere che sono comunque sono comunicanti si vede proprio che sono comunicanti ci sono delle polveri che comunicano fra M43 M42 strecciando in maniera molto estrema adesso e naturalmente chiaramente Messier le aveva identificate come due nebulose separate insomma ma noi adesso sappiamo che è un'unica nebulosa separata da una cintura di polvere che casualmente passa di là più nemmeno come casualmente le polveri formano danno una forma di testa di cavallo nebulose abbiamo visto prima veramente molto molto bella questa fotografia sì poi anche con pochi secondi di posa e con strumentazione che non è professionale diciamolo pure cioè 30 secondi di posa e sia un'immagine davvero davvero piacevole anni fa per fare una foto così con la pellicola fotografica occorreva almeno almeno un'ora di posa e tanta pazienza perché con la pellicola fotografica ne veniva bene una su dieci e con la speranza di aver messo a fuoco tra l'altro di aver indovinato l'oggetto perché noi possiamo centrare gli oggetti tramite questo software molto sofisticato una volta c'erano solo i cerchi graduati di ascensione retta e declinazione posti sulla montatura del telescopio uno metteva i cerchi graduati puntavano l'oggetto con la speranza che si trovasse al centro della della del telescopio ma quasi sempre non era così ok bene io direi ci prendiamo gli ultimi cinque minuti se ci sono domande penso che abbiamo fatto una bella sessione osservativa stasera che abbiamo visto svariati oggetti il cielo non è neanche dei migliori che ho visto c'erano delle velature quindi questa è la visione con l'altro telescopietto vediamo se riusciamo a vedere un po il colore eccolo qui non so se riuscite a vederlo è molto rumorosa la camera perché ho abbassato adesso un pochino vedete come viene molto meglio adesso rispetto a quell'altra è molto più rumorosa la camera webcam perché serve per fare altre cose diciamo che questa è una camera colori quella è dedicata proprio alla ricerca scientifica ed è bianconera perché il bianconero comunque serve proprio per fare determinati determinati campi di ricerca in sostanza perché è molto molto più sensibile perché non deve gestire i tre colori della matrice di buyer che di cui è composto il sensore di una di una ccd o di una camera a colori in sostanza è bella pure questa difesa mente sì sì è molto bella infatti e il colore c'è il suo perché rino lo sai no sì sì voglio dire io per quanto sono l'amante dei film in bianco e nero però insomma a parte le battute insomma io credo che una delle cose belle di queste di queste serate sia anche il fatto di poter vedere di poter vedere in diretta di fare delle riprese in diretta io dico sempre insomma osservare un oggetto con i propri occhi per quanto non lo vedrete mai così al telescopio è come da comunque un'emozione diversa leggevo anni fa su fondo un articolo di sky in telescope che era la maggior che è la maggiore rivista di astronomia mondiale a livello professionale americana insomma alla fine la bellezza di osservare un oggetto a telescopio non è solo la bellezza diciamo intrinseca no ma è proprio una bellezza intellettuale cioè sapere che magari state vedendo un batuffoletto senza alcun particolare anche se volete abbastanza insignificante però quel batuffoletto lo state vedendo con i vostri occhi e quel batuffoletto è una galassia distante 60 milioni di anni luce 50 milioni di anni luce eccola è una bellezza di altro tipo oltre al fatto che alcuni oggetti sono oggettivamente più belli a occhio nudo piuttosto che che in una fotocamera per esempio la nebulosa di orione per quanto consenta di con una camera anche non troppo sofisticata ma di avere delle foto bellissima insomma nelle bruciazioni vista occhio nudo sotto un cielo buio è un'immagine che lascia senza senza fiato insomma perché soprattutto se uno non ha un'immagine diciamo una visione fugace ma rimane qualche minuto a osservare comincia a percepire tutta una serie di particolari che all'inizio sfuggono insomma quindi noi diciamo sempre speriamo di poter tornare a fare presso attività in in luogo in presenza anche per poter dare a tutti la possibilità di osservare dal vero una serie di oggetti insomma bene se ci sono altre domande noi siamo ben volentieri disposti a pronti a rispondere altrimenti io insomma maurizio e fernando vi salutiamo per la prossima volta ricordo che la prossima serata è una serata del salotto di arian e di di urania e dedicata al principio antropico insomma cercherò di tenervi occupati su un argomento che è cosmologico ma che tocca tutta una serie di aspetti che sono anche se vogliamo al ai bordi della scienza se ripeto se ci sono domande noi siamo qui vi invidiamo ovviamente a seguirci e anche a sostenerci questo io non l'ho detto prima insomma è non bisogna mai darlo per scontato insomma noi siamo un'associazione di volontari quindi stiamo facendo queste attività in totalmente gratuite l'unica cosa che chiediamo è la prenotazione però di motivi di gestione delle delle presenze sui nostri sistemi vi invidiamo a sostenerci o iscrivendovi l'associazione tenete conto che per essere iscritti all'associazione non bisogna essere per forza astrofili possessori di telescopi anzi noi abbiamo siamo associazione che ha circa 300 150 soci e la stragrande maggioranza di questi non sono astrofili operativi non hanno un telescopio ma insomma gli piace quello che facciamo gli piace anche insomma contribuire alle attività che facciamo con la con la quota associativa quindi che è una quota molto bassa di 30 euro se non vado errato a noi quindi è qualcosa che insomma che vi consentirà anche in futuro poi di fare le nostre attività modalità totalmente gratuita per quanto riguarda se invece potete sostenere una qualunque donazione sul paypal e passa la paura se non ci sono domande io ringrazio poi maurizio e fernando ringrazieranno grazie a te rino grazie a tutti grazie a tutti per essere per essere stati qui con noi questa sera ci siamo fatti compagnia insomma abbiamo avuto anche un cielo anche se non perfetto sicuramente più sereno di tante altre volte perché noi poi presentiamo le vendiamo possiamo presentare delle immagini repertorio ma insomma chiaramente insomma fare delle immagini in diretta è un'altra cosa avete una domanda per quanto riguarda il colore delle nebulose le vediamo così grazie a dei filtri oppure hanno veramente delle lunghezze d'onda colorate se le vedessi una nostra nave sarebbero solo una fonte di luce allora la domanda è meno banale di quello che sembra nel senso che il discorso dei quali sono i colori naturali delle delle nebulose è sempre un discorso abbastanza abbastanza ostico noi percepiamo i colori chiaramente non possiamo vederle in diretta perché non siamo nei pressi nebulosa quindi il colore che noi vediamo è sempre tra virgolette un artificio fatto dalla pellicola no è chiaro che la pellicola chiaramente entro il sensore è chiaro che determinati colori indicano abbastanza chiaramente un colore simile al naturale no quando noi vediamo il colore rosso perché è rosso perché noi percepiamo tale perché la lunghezza d'onda che riceviamo è quella del colore rosso però i colori spesso soprattutto su alcune determinate riprese sono sono possono essere totalmente arbitrari per esempio la boll e anche molti astrofili fanno diciamo riprese questo tipo fa riprese con tre più pari prese monocromatiche o con tre filtri che sono quello dell'ossigeno ionizzato tre volte cosiddetto 3 quello del dello zolfo se non vado errato è un altro che è la calfa dell'idrogeno siccome sono riprese monocromatiche si ottengono se io faccio la stessa ma coi tre filtri tre immagini tipo diverso sempre bianco e nero ma le immagini saranno diverse perché perché il filtro fa passare solo un inguezze d'onda corrispondente all'elemento su cui è costruito quindi basta che poi assegno a ciascun filtro un colore che ovviamente un colore arbitrario per esempio potrei assegnare il rosso alla calfa e l'azzurro al zolfo il giallo allo 3 e a quel punto quello che ottengono immagini a colori è una immagine reale no è un'immagine cosiddetta farsi colori però vi assicuro che sono immagini bellissime quindi il concetto dei colori reali è sempre un concetto abbastanza abbastanza opinabile quando si ha una fotocamera a colori o una webcam colori la webcam è fatta per la camera colori è fatta per dare l'immagine corrispondente alle immagini reali però tenete conto sempre che sono le immagini provenienti da distese molto lunghe e alcuni di queste sono artificialmente arrossate dalla polvere per esempio quindi la domanda era pertinente anche meno banale di quello che sembra insomma c'è un'altra domanda forse posso rispondere io come si può ridurre l'inquinamento luminoso è sicuramente luminoso si può ridurre in diversi modi per esempio e inviando la luce verso terra non verso l'alto come troppo spesso accade oppure schermando le lampioni delle strade i lampioni dei giardini privati e per mandare la luce sempre verso il passo noi tra l'altro abbiamo nel gruppo ricerca un settore che si dedica alla lotta contro l'inquinamento luminoso ovviamente noi c'è una legge regionale addirittura all'avanguardia legge regionale lazio che tutela gli osservatori astronomici dall'inquinamento luminoso praticamente in un raggio di 10 chilometri le luminarie i lampioni eccetera devono essere fatte in una certa maniera come vi dicevo prima altrimenti si incorre in una volta noi abbiamo fatto parecchie denunce di messa a norma di luminari e lampioni e molto spesso ci hanno dato retta addirittura il comune di frascati che sta all'interno di 10 chilometri di distanza dal nostro osservatorio è molto collaborativo e piano piano sta cambiando le sue luminari lampioni e manda la luce verso il basso anziché mandarle verso l'alto comunque sarebbe un discorso troppo lungo e chiudiamo qui non so se vi ricordate qualche anno fa quando ci fu quel grandissimo black out per tutta italia no che era novembre quindi è tra mente se era un periodo abbastanza piovoso così però ci sono state delle regioni che avevano il sereno e una delle cose che lasciò stupefatte la gente oltre ovviamente la paura tutte le problematiche eccetera ma insomma chi alzò gli occhi al cielo vide un cielo incredibile perché perché voi immaginate tutte le luci d'italia spenta praticamente c'era un cielo che neanche in alta montagna l'unico limite era la l'inquinamento delle città che chiaramente causa un problema ma per esempio passava uscire fuori dalle città e il cielo era incredibile la gente ha visto la via latte in posti dove era praticamente impossibile vederla da decenni quindi l'inquinamento luminoso è un grosso problema è un problema anche economico un problema di cultura che stiamo perdendo come detto giustamente maurizio un discorso molto molto più grande che probabilmente faremo come facciamo spesso in osservatorio ma che faremo eventualmente anche in una serata ad hoc qui online